Cambiano i tempi, le persone si evolvono, l'obiettivo è svilupparsi. Viteria Uganea nasce dall'idea di realizzare un'impresa da tramandare di generazione in generazione. Giuliano Guzzo ha avuto il coraggio di guardare oltre e la sua visione, oggi, è diventata un gruppo industriale che da 50 anni è solo all'inizio. La fiducia è un valore che si conquista nel tempo, la garanzia di avere un partner forte e solido presente sempre. Supportiamo le tue scelte, assicuriamo qualità e disponibilità del materiale, proponiamo soluzioni nuove. Cresciamo nelle sfide del mercato, ci trasformiamo per innovare. Anticipiamo i cambiamenti per garantire i progetti futuro. Oltre 45.000 articoli a stock e la logistica integrata sono il cuore pulsante di Viteria Uganea, componente essenziale della gestione aziendale. Professionisti che sanno ascoltare e comprendere le esigenze dei clienti sono il valore dell'azienda, la nostra squadra. Competenza, lealtà, lungimiranza, meritano la fiducia e creano solide collaborazioni per risultati sempre migliori. Il nostro servizio è il valore del prodotto, insieme di competenze, esperienze e organizzazione, espressione dell'efficienza di Viteria Uganea. Innovare e guardare oltre, preparati per dare risposte alle richieste future. Ciò che siamo oggi è il frutto del lavoro delle persone. Compito di Viteria Uganea è valorizzare le loro abilità, premiare il merito, stimolare le iniziative, assicurare il benessere. Ogni giorno impariamo dal nostro lavoro per dare il meglio di noi. Collaborare con i nostri clienti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Vogliamo essere un riferimento nel mercato, nella proposta di soluzioni, nello sviluppo delle intuizioni. In Viteria Uganea ti daremo sempre una risposta. Tecnologia e automazione sono mezzi che accrescono efficienza e qualità del lavoro. Potenziano la gestione, facilitano le operazioni, evolvono i metodi. Chi sceglie Viteria Uganea si affida a un fornitore, un partner, un'azienda su cui contare, adesso e nel futuro. Da 50 anni ogni giorno è l'inizio di un disegno, lo sviluppo di un progetto, la richiesta che ha trovato soluzione. Crediamo nel nostro lavoro con la stessa determinazione di ieri, la tecnologia di oggi e l'esperienza per domani.